E ciao a tutti ragazzi e bentornati su Geometry Dash Oggi nella lista delle monfatti dobbiamo fare Ultra Paracosm di Rulas Che è un easy demon 10 stelle e 3 monete non verificate che non prenderò Questo demon non me lo ricordo per niente ragazzi ma proprio zero Ma vi risparmio la pratica tanto non vi interessa vi lasciamo un video E buona visione Ok ragazzi pratica finita non è così difficile perché ci ho messo 10 tentativi Più che altro confusionare qualcuno di voi potrebbe andare in pappare il cervello Io vi consiglio se siete più lettici di non guardare questo video Dai prossimi 10 secondi Comunque ci proviamo Oddio cosa è successo Cosa è successo Non ho parole Guarda che lo spam della wave Mi divertirò molto a rivedere la creep Ah 66 peccato Non ci stavo capendo più niente nel certo punto ho chiuso anche gli occhi Vabbè Ci stavo capendo meno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ciao a tutti.